Da latte e miele del giorno, oroscopo Paolo Fox G18 aprile 2019, condizioni astrologiche personalizzate per ogni segno in amore, studio, lavoro, successo e sorte del giorno. Sono giornate particolarmente impegnative per la riete, durante le quali bisogna cercare di gestire bene le proprie risorse e le proprie energie. Giovedì 18 aprile Aprile inizia una seconda parte della settimana piuttosto sottotono per il toro. C'è una condizione astrologica abbastanza importante e di recupero per i nati sotto il segno dei gemelli. Tra oggi e domani è probabile che il cancro debba affrontare qualcuno, anche per capire se questa persona è veramente importante. Secondo l'oroscopo di Paolo Fox del 18 aprile 2019, questo per il leone è un periodo di innovazioni e di emozioni. Recupera Vergine, e la seconda parte della settimana non vede più Mercurio opposto. Bilancia mette in discussione soprattutto le storie che hanno vissuto una crisi recentemente. La seconda parte della settimana è interessante per lo Scorpione. Sabato Venere sarà favorevole al segno zodiacale del Sagittario ed ogni decisione è favorita. L'oroscopo di oggi indica che ci sono tensioni che rischiano di far perdere la calma al Capricorno. C'è una condizione astrologica piuttosto complicata e non è escluso che i nati sotto il segno dell'acquario possano essere coinvolti in una piccola disputa. Possono esserci delle situazioni di contrasto per i pesci. Oroscopo Paolo Fox oggi 18 aprile 2019 Amore, studio, lavoro e fortuna Scegli il segno Iscriviti per non perdere le novità Grazie per il like Grazie per la visione